Il mondo sta cambiando. È già cambiato. Ci sono persone tra di noi dotate di abilità che vanno molto al di là dell'ormale. Io ho adottato sei bambini del genere. Vi presento la prima classe dell'Umbrella Academy. Cosa? Sorridete! No, grazie. Siamo tornati. Forza, spostati. Ecco qua, vi apro. Entrate! Io sto davanti! Tutti dentro! Esmettila di un mare! È la prima missione! A chiedi il becco! Si torna in missione! Cazzo sì! Uccidiamo questa botana! La dobbiamo salvare, Ben. Giusto. Voi altri vi punsecchiate di continuo. Sì, ci rompiamo le scatole a vicenda. Ma se le cose si mettono male, noi ci sosteniamo. Wow, che banda di perdenti. No! 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 Grazie a tutti.